Sentiamo troppo spesso parlare soprattutto in questi ultimi tempi di Equitalia, nel nostro caso specifico di Equitalia Nord, ma di Equitalia in senso più generale. I telegiornali, ma non solo i talk show, ci stanno dedicando ampio spazio rispetto alla ruolo istituzionale che noi andiamo ad assolvere, forse troppo spesso anche delegittimandoci o affidandoci ad un compito diverso rispetto a quello che effettivamente siamo chiamati ad assolvere. L'esattore esercita un lavoro che gli è affidato, quindi non svolge un lavoro in conto proprio. Equitalia Nord è stata costituita il 15 dicembre del 2010. La proprietà di Equitalia Nord è per il 49% dell'Inps e per il restante 51% dell'Agenzia delle Entrate. Equitalia Nord esercita quello un diritto di tipo privatistico pur avendo una proprietà che parla di capitale pubblico. Si occupa della riscossione dei tributi erariali e locali nell'Italia settentrionale. Il nostro compito viene esercitato nel rispetto di norme e di leggi. Non siamo noi che ci permettiamo la discrezionalità di perseguire o meno, di dilazionare o meno i tempi della riscossione. Noi siamo sostanzialmente dei meri esecutori, potremmo essere considerati dei meri riscossori o cassieri. La Fabi si è sempre fatta parte attiva affinché al comparto della riscossione venisse tempo per tempo comunque conservato come area contrattuale di riferimento quello del credito. Perché siamo consapevoli che comunque sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista economico l'area del credito sia ad oggi il contratto ideale per il comparto della riscossione, proprio per quelle che sono le specificità ricomprese nel contratto del credito. La Fabi è presente presso ogni unità operativa con proprie cariche sindacali e siamo anche molto orgogliosi di avere un'ampia rappresentatività su tutto il territorio di Equitalia Nord, soprattutto nella regione Lombardia, nella città di Milano, esprimiamo una rappresentatività che ci attesta quale sindacato leader. La Fabi è presente con cariche nazionali. Primo fra tutti il nostro coordinatore nazionale Pierluigi Pratola, poi ci sono io, coordino Equitalia Nord e collabora con me il collega Stefano Frattini. Siamo attualmente anche impegnati nel percorso di armonizzazione dei contratti integrativi e di tutti gli accordi esistenti nelle sei società che sono confluite in Equitalia Nord. Ci stiamo adoperando per armonizzare, per identificare un unico contratto integrativo che possa trovare ambito di applicazione in tutto il settentrione. Ci siamo prefissi anche l'obiettivo di entrare nel merito del normare le nuove figure professionali. La più importante è quella degli accertatori. Questa è una nuova figura, non è normata contrattualmente e il nostro obiettivo è proprio questo. La cosa che ci soddisfa particolarmente è sapere che le risorse adibite alla riscossione sono sostanzialmente limitate rispetto a quelli che sono poi nefatti i carichi di lavoro e la popolazione servita. Comprendiamo in questo momento quanto sia difficile svolgere il nostro ruolo, soprattutto in un contesto socio-economico così fortemente critico. Purtroppo abbiamo sentito tutti, dai media, dai telegiornali, siamo costantemente sotto attacco. Di fatto le azioni della classe politica, nonché proprio gli atteggiamenti degli stessi media, hanno fatto sì che noi venissimo identificati come dei soggetti persecutori dei contribuenti. Non è così. Noi svolgiamo il nostro lavoro nel rispetto della normativa di legge. Attualmente la Fabi è impegnata nella tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. I lavoratori esattoriali subiscono addirittura delle aggressioni fisiche ed effettivamente hanno timore costante, hanno paura nel recarsi, nello svolgere il proprio lavoro. Come Fabi ci stiamo attivando affinché ogni strumento possa essere utilizzato perché la tutela venga comunque data ai lavoratori. Fortunatamente negli ultimi tempi stiamo ricevendo un messaggio opposto rispetto a quanto ricevuto fino a poco tempo fa e quindi un messaggio di vicinanza ai lavoratori. Non da ultimo è stato molto gradito l'incontro che è avvenuto pochi giorni fa tra il presidente del Consiglio Mario Monti e le stesse parti sociali nazionali che ci rappresentano. Il nostro lavoro è un lavoro nei fatti ingrato però è assolutamente utile perché noi contribuiamo ad abbattere quella che è l'evasione fiscale perché siamo l'anello della catena che consente allo Stato di introitare quelle risorse che devono essere assolutamente incassate. Ci aspettiamo di conseguenza che l'opinione pubblica recepisca l'importanza del nostro ruolo.